Centro città e divieti altre 5 telecamere per controllare la ZTL. Per chi fosse ben abituato a percorrere quelle corsie riservate ai mezzi pubblici senza controllo elettronico, per esempio quelle istituite lo scorso ottobre in via Valperga Coluso, oppure avesse individuato le telecamere sistematicamente fuori servizio nella zona traffico limitato del centro, la pacchia è davvero finita. Dal comune è uscita infatti la delibera con cui Palazzo Civico ha deciso stamani di integrare il sistema di controllo di vie e corsie riservate al trasporto pubblico, riservando al trasporto pubblico metà di Piazza Statuto, da Corso San Martino all'incrocio con via Garibaldi, oltre a disporre l'installazione di 5 nuove porte elettroniche per il controllo degli accessi in ZTL. Tre nuovi varchi con telecamere di sorveglianza saranno installati in via Milano all'angolo con via 4 Marzo, sull'incrocio tra via Rossini e via Verdi e in via Accademia Albertina all'angolo con via Mazzini. Da oggi l'ingresso nella città proibita sarà davvero impossibile, almeno fino alle 10.30 del mattino. Con la nuova delibera infatti la copertura sarà davvero capillare e ogni angolo di ZTL sarà controllato dall'occhio elettronico delle telecamere.